sto facendo la granita e maria è uscita con sarà e niente sto passando un po di tempo qua fa un caldo che si muove e poi ci sono poche granite e così più tardi ce la mangiare poi tutto bene e va bene e stamattina sono andato a correre sono passato da un amico che ci conosciamo un sacco di tempo e mi ha dato due limoni due 78 kg e adesso sto facendo la granita la granita come la facciamo noi qua è bellissimo metta a bollire l'acqua e zucchero e poi se perché viene così viene granulosa la città lo fa caldo facendo il bagno o niente ancora no non è qua niente ancora più tardi più di là ieri sera ho visto ho visto le foto di whatsapp della macchia ecco la macchia ormai che fa che non so che la macchia come la macchia che va solito i pollecare e il limite e scorzono e le sorelle va bene io vi saluto vi abbraccio un ciao